Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono state registrate 13 nuove guarigioni e certificati 16 nuovi casi, di cui 3 ripositivizzati. Il bilancio quindi attessa 78 contagiati attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Per quanto riguarda invece il comune di Torre Annunziata, nelle ultime 72 ore sono stati rilevati 3 nuovi casi di contagio, a fronte di 21 tamponi processati, con un indice di positività pari al 14,29%. Non si registrano nuove guarigioni. 34 i cittadini attualmente positivi. Sono 4.625 le persone che hanno contratto il coronavirus Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.497 guarite e 94 decedute. Torre Annunziata dall'inizio dell'amore. Torre Annunziata dall'inizio dell'amore.